Buonasera! Siamo arrivati al 31 di dicembre finalmente, domani è il 2020, vi rendete conto? Io sono qua con la mia amica Buonasera! Ragazzi, auguri! Ma ce li facciamo dopo, tanto sono con noi tutta la sera Vloggone di Capodanno Grande vlog Noi siamo insieme in realtà da mezzogiorno, però sono la bellezza delle 6 e mezza praticamente Tra poco prepareremo il sushi insieme E notiziona, l'avete convinta, quindi brave, sono fiera di voi e ha aperto il canale Grazie ragazzi per il sostegno che mi avete dato anche senza conoscermi, grazie mille Sì, sì, quindi insomma, ovviamente vi lascio nell'info box il link poi al suo canale Andate a trovarla e troverete il doppio vlog, perché così vedrete il mio adesso E sul suo canale trovate l'altro suo vlog, quindi è un po' diverso, non sarà identico Quindi andate a curiosare, mi raccomando Qua abbiamo già fatto i cestini con noci e noccioline Abbiamo già fatto le nostre foto dementi, abbiamo già riso e pianto Pianto ovviamente da ridere come due cretine Ma d'altronde non ci sarebbe soddisfazione Altrimenti qua c'è anche Bubi, che vi saluta con tanto di manine in bocca Ciao ragazzi, auguri! Oggi è il 31! Evviva! Mamma, accendi la stellina! No, è presto, a mezzanotte Ovviamente siamo ben fornite perché Riccardo stamattina ha fatto shopping E aiuto con una mano sola per notare che mi ha preso le stelline rosa e le stelline argento Cioè proprio per donna e per uomo Quindi siamo a posto e niente, direi che adesso metto sul riso e mi spiccio Perché sono già le 6.30 e quei due se arrivano e non c'è il sushi ci ammazzano Fabio soprattutto, quindi mi muovo Acqua a bollire E farò entrambi i miei pacchettini di riso Perché appunto solitamente quando siamo solo ieri che ne faccio solo uno Però appunto siamo in quattro, quindi direi che due pacchettini almeno Il sushi che utilizzo è sempre questo, ormai lo sapete E niente, quindi ora cottura riso Poi appena si raffredda io e Ramone iniziamo a farcire, a fare i roll Perché è tardissimo e hanno una fame allucinante Quindi dovremmo farne un bel po' Ci aspetta un bel lavorone E poi con sottofondo di frutta secca Vi faccio vedere le unghie che ho fatto ieri sera Sì, Ale è anche a prova Con il semi permanente che mi hanno regalato a Natale I miei genitori, veramente molto molto carino Ale sta distruggendo la casa mentre io vi faccio vedere le unghie E niente, spero vi piacciono, a me mi piacciono tantissimo Soprattutto questo colore qua È uno smalto proprio già glitterato, veramente carino Era un po' che non le facevo, quindi insomma Devo migliorarmi, ma siamo contenti, dai Tagliamo lei avocado Io salmone e tonno crudo Per il sushi Sushi Sushi, sushi, sushi Tutto l'anno Non lo mangeremo tutto l'anno Non mi dispiacerebbe, devo dirti la verità Magari non tutto l'anno, ma molto spesso Vabbè, esatto Tutto l'anno, un po' qui, un po' là Un po' là, sì Andiamo a provare tutti i posti possibili Madonna È fatto? Un posto, wow È stato veloce Ramona Non sono ancora qua Era più semplice Madonna, io già me lo mangerei così con un po' di salsa di soia Non è secca, dai, lo so Quindi ce lo spariamo un pezzettino con la salsa di soia Non diciamo niente a nessuno Sì In segreto nel vlog, tanto i nostri uomini non lo sapranno mai Posso guardare lo vlog e tac No Qua inizia la parte difficile Facciamolo per così Ma quella roba di là, con le feste di salmone, lo dividiamo ancora? E poi sì, le dipende Adesso vedo com'è Cosa voglio farlo, sì Perché tipo per quello che piace a Fabio con la palletta di riso Mi spegni il gas Secondo me basta, lo lascio lì così Ancora un attimino Che spavento Ale Mamma mia che spavento Voilà E se ce ne ce n'è comunque Ma bosco Conta che ogni roll le metti due pezzi Ah ma sì, allora Cavoli Poi con l'avvocato, il filo ad Elia Ah sì, allora sì Ah Buon, buttiamo, aspetta, ci mettiamo questo dentro? Ah sì Facciamo immondizia Con l'avvocato, lo usi come contenitore Che carino Credo che metti anche questo No, quello è da ottenere, questo è da buttare Stavo immettando? No, così fa da contenitore, perfetto No, poi fai la corsa, prima di arrivare là e ogni tanto fanno... Via con la salsa di soia... Basta! Mi ci va la forchetta, mi so... No, ho sentito due mani... Uno, due, buon appetito! Quanto è buona sta salsa di soia! E' dolce! La scarpetta! Allora, riso cotto di qua, riso cotto di là, ho già condito con il sushi su, gna gna gna... Qua c'è il coltello già pronto nell'acqua per poi tagliare il sushi, avocado, salmone crudo, tonno crudo, Philadelphia e tagliere. Adesso intanto devo aspettare che si raffredda, quindi c'è ancora un po' di tempo. Attendiamo... Attendiamo... Cucu! Buongiorno! Cucu! E Ale si è già levata un calzino, lei si dondola e fa qualche orletto felice... Per il capodanno! E niente, adesso faccio sparire anche quello stendino... E niente... Solo io posso fare queste cose... Riso per sushi sul balcone! Perché non si raffredda più e noi siamo in ritardissimo con la tabella di marcia ragazzi! Ci uccidono! Ci uccidono quei due che abbiamo perso tempo oggi pomeriggio! Aiuto! Aiuto! E quindi... Ciao Riso! Raffreddati in fretta! Ci pensi? Ci pensi? Adesso passa un piccione viaggiatore e ci si mangia tutto il riso! Non ci hai messo neanche un po' di pellicola! Noi! Per far sicurezza! Noi! Andiamo lì a controllare! Sì! Guarda la piccione! Ragazze! Ho finito! C'ho la schiera a pezzi! Ricky non attende! Non attende! Se ne fotte! Ah! Qua c'è le tartine fatte dal mio amore! Col Philadelphia e il salmone! Qua abbiamo gli otto chili! Anche Fabio non ce la fa! Non ce la fa e si scassa! Ciao a tutti! La c'è Ale che ha già mangiato! Ale! Bubi! Ciao Bubi! Bubi! Ciao a tutti! Buon 2019! Bubi! Bubi! E fallo un sorriso! Buon 2019! Buon 2019! Eh? E lì c'è il piatto di Ramona! Bene! Buon appetito! Cucu! Oh ragazze mancano! Quattro minuti e quindici! Sì! Quattro minuti! Qua già scoppiano! Sentiamo rumori dal balcone! E... Niente! Stiamo preparando le stelline! Eccoci qua! Stanno aspettando! Ale sta aspettando prima di crollare! Perché sono poverino! È andato proprio la mezzanotte! Enrico prepara le stelline! La bottiglia! Eh? La bottiglia! La bottiglia! La bottiglia! Ma tu... Allora... Zia Ramona che ne pensi? Sì! In che senso? In generale di questa tua nuova avventura! Sono molto contenta di avervi conosciuto! Di aver approfondito l'amicizia con Roby! Di aver conosciuto la vostra splendida bambina! E anche Federico! Di passare l'ultimo dell'anno a prenderlo con voi! Perché siete degli amici splendidi! Vabbè ma scusa eh! E voi? Fai io capire come gira il mondo! Fabio youtuber ormai! Guardatelo! Lo devo riprendere io! Guarda! No! Sto facendo finta! Hai iniziato adesso o com'è? Un minuto! Tu riprendi! Un minuto! Di che riprende! Noi che io riprendo! Vai! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Oh! Non mancano 47 secondi! Vuoi metterti vicino alla finestra così lo puoi? Se il minuto 20 sia splendido è sempre migliore dell'anno prima! Dai! Siii! Di tutto a cuore! Anch'io! 36! Un anno incredibile mentre siamo quasi pronti! Siamo quasi ragazzi! Siamo pronti con le fontiglie! Siamo pronti con le fontiglie! Siamo prestigiare! Fabio youtuber! Uuuuuh! Quanto vuoi lavare domani? Non importa! Chi se ne frega! Uuuuuh! Sfonda il soffitto! Vai amore! Uuuuuh! Uuuuuh! ALE! 9! 8! 7! 6! 3! 2! 1! Uuuuuh! Uuuuuh! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 4! 5! 5! 5! 5! 5! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 10! 10! Vai vai, aspetta ci viene ancora una, è una sesto, no ma vai tranquillo, guarda lì una stellina Io faccio il diverso Già vai, guarda che faccia, guarda che belle, auguri amore, auguri amore ragazzi, possiamo fare un'altra Non ce l'è, accendiamone altre Amore La stellina ti torna, hai visto? Sono fasule, Enric, dove le hai presi? Dai cinesi Poi esplode tutto Adesso le accendiamo quattro insieme Dai Dai Com'è Fabio? Ciao Sbettacolo The number one Siete fatti festare insieme Che carini che sono Faccio un ringraziamento particolare a Roberta Perché io e Roberta già ci conosciamo da due anni Però ci siamo ravvicinate tanto in questi ultimi mesi E veramente anche se siamo distanti Però è un'amica che è sempre presente Ti dà dei buoni consigli Ti tiene compagnia È una grande persona dolcissima e vera La ringrazio anche per la fiducia che mi dimostra Anche per quanto riguarda i video e tutto E anche nelle cose della vita Comunque quelle importanti Quindi grazie Grazie a te Ma non me l'aspettavo questa dedica Ragazzi se vedete che Ramona non vi guarda Perché sta anche bloccando lei Due video in contempo Niente ragazzi Sono senza parole Davvero Buon anno No ci tenevo a dire che anche tu No anche lei Non so più dove partare Comunque Anche lei è un'ottima amica Veramente sincera Leale Umile Veramente educatissima Perché veramente educata su tutto E davvero sono contenta anch'io Che ci siamo appicinate Veramente Vorrei abitarsi più vicino E anche io Vorrei tanto Però ci accontentiamo di vederci ogni tanto Amicizia è vera Comunque Vero Assolutamente C'è un'amica lo sai che è lontanissima Ciao Silvia Ciao Silvia Saluto anche a te Buon anno E perché lei lo sai È una mia amica lontanissima Però io credo nell'amicizia Anche se non è vicina E tu lo sai L'importante Ripeto Che non perdiamo questo rapporto Che per me è troppo importante E sarà sempre così da parte mia Come so da parte tua Assolutamente sì E poi ti devo trovare a romperti le scatole Tante volte Ma quando vuoi Guarda Mi fa solo piacere Un crampo al braccio Viente ragazzi Buon anno Veramente Grazie anche a voi per seguirmi Intanto per chi mi segue sul mio canale Siete tutte speciali Anche per l'affetto che date ad Alessandra Alla nostra famiglia Quindi vi auguro tutto il bene del mondo Vi auguro un bellissimo Capodanno Vi auguro un bellissimo 2020 Pieno di cose belle Belle notizie Vi mandiamo Un bacione grande Buon anno a tutti Buon anno Tanta felicità Tanta buona salute Soprattutto che sono le cose più importanti della vita Assolutamente Non dimenticatelo mai ragazzi Salute e felicità nei sentimenti Sono le cose che vi arricchiscono di più Lasciate perdere il resto Un bacio grande Un abbraccio Ciao 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 Grazie a tutti